E' finalmente tornato il momento in cui per almeno un mese pensiamo che questo gioco ci piaccia E' finalmente tornato il momento in cui per almeno un mese spenderemo tutto il nostro stipendio per il sogno e l'illusione di trovare qualcuno Benvenuti e bentornati sul mio canale, oggi siamo qui con il primo video di EAFC25 Per l'occasione ho speso dei soldi, ho speso del cash, ho speso 139 euro Perché oggi andremo a fare un pack opening nella speranza un po' di fare dei soldini, un po' di trovare qualcuno per baitare questo fottuto video Prima di iniziare ovviamente lasciatemi un like e un commento, nei commenti fatemi sapere se l'avete già giocato, se dovrete aspettare il 27 quando uscirà Se avete già trovato qualcuno, se vi piace bestemmiare o se vi piace di più il tiramisù Vi ricordo che potete abbonarvi, mi raccomando fatelo perché almeno non solo farete parte di una grande famiglia chiamata Drogati Bastardi Ma mi ridarete anche i soldi che io ho appena speso sul videogame 23.100 FIFA Points 23.100 Questi sono i pacchetti Oro Premium, ce ne sono 10 Pacchetto iniziale essenziale, 10 oggetto giocatori rari di cui uno con valore 80 più garantito, super cazzole, ce ne sono 3 Giocatori Oro Prime, non male, ce ne sono 12 Pacchetto iniziale base, ce ne sono 3 Con i soldoni che abbiamo dovremmo riuscire ad aprirli tutti, dovrebbe avanzare anche qualcosa nel caso in cui non trovassimo un cazzo di niente per andare ad aprire i classici pacchetti Iniziamo da quelli scrausi Questo costa 70.000 crediti, follia Andiamo in ordine, apriamoci questi 10 Vediamo un po' cosa capita Non so da quanto non faccio un pack opening Ma è questo l'anno in cui al primo pacchetto troveremo C'ha un if Per capire se è walkout, vedete quelle strisce lì in fondo? Dovrebbero illuminarsi In questo caso non si sono illuminati E infatti è un giocatore completamente inutile che non utilizzeremo mai Ah no ma era walkout Ah l'unico walkout del videogame, del video Emma Head Che ficata Oh umtiti, mica male Magarena Portales Ma chi sono queste persone? Quanto costa? Come si fa a capire? Confronta prezzo Oh 20k, che fai? La butti? Questa la metti immediatamente in lista Gli altri me li tengo al club in realtà E poi capirò che farci perché Devo ancora rientrare in mood FIFA Vedi, questo non è walkout perché non si sono illuminate le cose Ma è semplicemente una persona fuori che cammina E comunque, dici che fai? Lo butti? Assolutamente sì Gliede fuoco e lo butti nel cammino Costi dei soldi? 2,6 Ma guarda, tutti gli 84 Dall'84 in su io te butto dentro Mario Gozze Erz Salmone Ma tutte donne? Ma che cos'è? La mia vita questa Questa cercare su Instagram Fermi Piechalski C'ha 5.000 follower Sei tu che devi scrivere a me, non il contrario Quest'anno cercherò di giocare un po' Oh, ma tutti che camminano, eh Sì, ma neanche walkout Quest'anno cercherò di giocare un po' di più Perché vorrei portare più video Anche perché l'anno scorso non li ho assolutamente fatti Però soprattutto il FIFA World Tour Vogliamo rifare la coppa con Ron Vogliamo fare un sacco di roba Zaire Emery Che pacco Barack Obama Abubakar Non è lui Quanti anni c'ha? 300 Vabbè, butta tutto un club 6 pacchetti rimanenti Vedi che camminano tutti Però 0 walkout Vai, ma questi si possono schippare, sti cazzi, tanto Oh, Delict, però 84 Da quand'è che è walkout? Da 80 Ma sì, dai Un po' troppi disabili forse, eh Da 86 in su dovrebbe essere walkout, no? Se non sbaglio Perché quella che abbiamo trovato prima era 88 Doppia H Oppure Stepney E ce l'hai questo hype che si deve illuminare tutto? Però non si illumina mai un cazzo di niente Però magari trovi Ah, non ho controllato quanto costava Delict Non poteva costare dei soldi In realtà no perché è lento frasico Ciuciu Hernandez Hanno aumentato il ratio di donne Ma quante sono? Questa è scherzata Voglio fare una squadra del FIFA World Tour Tipo calciatrici che hanno subito violenza domestica Secondo me 11 le trovo E li camminano tutti però Ma nessuno si illumina Ma questa è una tragedia, sì Buongiorno Oh, Ken 84 de velocità Tu costi dei soldi 5k Eh, lo sapevo Alvarez Cosa? Ma è roto? Ma come 40? Questo da vendere immediatamente Devo controllarli meglio Perché qua rischi che butti dell'oro Ultimo pacchetto di questi da 3,50 Vediamo se il gioco ci sorprende in qualche maniera Comunque è il primo pacchetto aperto Walkout Ma è semplicemente per darti l'impressione Che tu stai facendo qualcosa Cioè che i tuoi soldi non sono stati sprecati Finalmente Ugarte Lo cercavo dal 2013 Che schifo è questo pacco Clara Pinedo Ma questa dove l'hanno presa? Il birichino doppione Allora, ci abbiamo Pacchetti oro prime 12 giocatori oro Di cui 1, 82 E 6 rari garantiti Ne abbiamo 12 Se vola Un altro walkout non sarebbe male No, ma credo che sia Il rate o walkout Da quando hanno messo le donne Penso sia la cosa più bassa del pianeta Cioè tipo È l'ottavo nano Un walkout di FIFA Troppi giocatori Troppo tutto Pepe Non era così pepe Magari una volta al mese Ce li butto i soldi Per fare dei pack opening Non di più Perché sennò diventa una spesa Veramente distruttiva A meno che Non cliccate il tasto abbonati In quel caso potrei spendere più soldi Atletico de Madrid Au coche Madonna è incollato per terra Ma quanto è lento La gazzetta Come te sei ridotto 8k Sì sto cazzo No Ermafeo Come te sei ridotto pure tu 8 pacchetti rimanenti Oh walkout Fermi tutti ATT Spagna Ma è un'icona Ho trovato un'icona Morientes Ma come un'icona La più scarsa del pianeta So basito Ma so completamente basito Ma come Fernando Torres E la svolta Costa 800.000 crediti frate Ti rendi conto che hai già svortato le serie di tutto l'anno Ma come 800.000 Ho svortato frate Devo chiedere aiuto a Ron Lo so che sei allo stadio a vederti Juventus Napoli Ma ti devo mandare una foto E tu mi dirai Se devo venderlo Se devo tenerlo Perché questo O s'abbassa De prezzo O aumenta Ora ti mando una foto Tu mi dirai Vendilo O aspetta Ah si ce l'ha svoltata Fernando Ma ho capito perché l'abbiamo trovato Perché c'è Angelinio a portare fortuna Sì Ron mi devi rispondere in tempo zero Che qui il prezzo diminuisce alla velocità della luce E il video è svoltato Ho trovato la mia prima icona Gimenez quanto costa Ma che cazzo ci frega C'è un Fernando Torres Sì 800.000 crediti De Cristiano Potrei smette Ma noi continuiamo Perché noi siamo golosi Siamo golosi Eh non ci darà più niente Ha scaricato È tipo la macchinetta È tipo Gates of Olympus Non ti dà più niente questo Fin quando non gli rimetti i soldi Oh Coman Questo costa Ma si stava Siamo pieni sordi Siamo letteralmente i giocatori più ricchi di FIFA Un Q costa Sì quanti sordi stanno a fare Mightland Niles Ancora gioca a pallone Pazzesco Non mi sta rispondendo Ron Tocca un altro Tocca un altro colpo Oddio un altro walk out Fermi tutti Vabbè E pensi ma Ma che cazzo è Arkema League No è coso Oh Catoto Questo Fermate tutte Che Catoto La Catoto Guarda che non è da sottovalutare Ma è una branda la Catoto Questa costa meno 30 No come 17 Catoto Vabbè però non male Sancio Panza No Chi ho visto Cone No Ma ha risposto in una maniera terrificante Ron Sei un pro Ma sa che mi ha bloccato su Whatsapp Pensa a Ron Pensa a Ron è un altro walk out Piatto ricco Micifico Cadio glue Questo non è un giocatore di calcio però te lo posso dire Non esiste sul mercato questa persona raga Cadio glue non esiste sul mercato Ma poi quella I non è una I È tipo uno di quei caratteri turchi Come fa non esistere sul mercato Sono È tipo uno a uno È raro Tutta è merda Questa da cercare su Instagram dopo Questo è letteralmente un medico di base Ma che ci fa qui Walk out No Oh Sanchez Mica bruttissimo Frate Ma è lui Oddio Cabella Lo storico Ancora gioca Ah sì ma qua si parla del 2016 Secondo me Cabella Ah sì Ron mi ha bloccato su Whatsapp Non mi sta più rispondendo Walk out Oh Cole Palmer però eh Guarda che sta droppando come un pazzo Sono altri 20k Uno Mendes pure può essere che costa Frate Artri 20k Questi sono da vendere subito Comunque penso Torres di venderlo perché Tanto non lo userei mai Ho bisogno di soldi per farmi la squadra per i video Quindi penso che andrò immediatamente a venderlo Martinez può essere che costa qualcosa Lo vedo con delle stats abbastanza cattive Oh Guardiol questo costa 10k Frate 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 Porta a casa Abbiamo finito i pacchetti Ora ne rimangono 3 e 3 Ne rimangono 6 Pacchetto iniziale base Pacchetto iniziale essenziali Questi sono meglio ovviamente Apriamo prima questi 3 Che magari sculliamo pure qua Un inf adesso sarebbe tipo her top Sì eh ma non te dà più niente Ha scaricato Ha finito Ha finito Serve la botta finale Anche se io rente Ma quanto costano Ma questa è follia Ah è non scambiabile Bastardi Ultimo pacco da 500 E se gode Walk out E no? Serve un walk out Portiere Tedesco No donne Non ci interessano le donne O meglio sì ma non tutte Barcolà 80 Gli hanno dato a Barcolà Frate No sauda finalmente 92 di velocità Questa è una branda Ultimi 3000 FIFA Points Tengo quei 7900 che rimangono Per dei contenuti successivi Che perché è meglio Se troviamo roba E risparmio dei FIFA Points Perché se sono matto Ne posso fare molti di più Poi dipende anche dai pacchetti Di che promo che mettono Walk out Fermi tutti No DC Francese Chi sei? Lione Non conosco i giocatori Osimena con dietro Renard La Renard Non ti giuro non so chi è però Osimena Merda Osimena erano Arzio d'alta gappa Ma questo come lo Ma questo non puoi metterlo È impossibile elincare Osimena Mi toma Bizzò Pedro Neto Dest Va bene Penultimo pacchetto del video Ultimo walk out Fermi tutti Esterno spagnolo Bundesliga Chi cazzo è? Maracuio Del Bayern Grimaldo 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 Non male Ennesimo walk out di questo video Che ormai è uno dopo l'altro Auza Ultimo pacco di questa straordinaria avventura chiamata Avventura chiamata pack opening Ho questi due pacchetti Due walk out Ma forse perché No 82 più garantito Quindi può essere Non è che ti considera walk out Perché c'è il prestito 86 più Cos'è Mesa Desi Diamo se il walk out anche questo È per il prestito È Mesa che è per il prestito Perché ci uscì Portogallo Oh Bruno Fernandez Sei tu Brunello È Bruno Ma questo è 88 però eh 87 Buono Che stazzo fratea Dietro nessuno Che controllo Mica male Quanto saresti costato Arti 30 Va bene dai Andiamo a vedere Quello che abbiamo trovato Ti posso dire Fernando Torres Mahut Lakatoto Palmer Madison Alvarez Grilish Nkunku Coman Uno Mendes Guardiol Immobile Vabbè e gusto Ma in più Abbiamo trovato La Renard Osimena Brunetto Fernandez Carragher Vabbè stava nei pacchetti iniziali Grimaldo Robertone Delicta Veramente non male Bene Io sono molto felice Soprattutto per Fernando Torres Che non avete idea di quanto Ci svolterà la situazione Almeno per i Primi video Perché comunque Sono 800k gratis Grazie mille a tutti Se sei arrivato fin qui Commenta scrivendo Fernando Ci sentiamo alla prossima Ciao